Siiii, stai facendo un glow up Shanti Si? Si, sei molto carina La tana del frerito Ciao broderigno Che disagio Ciao Quando fai il gameplay Ciao 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 Shanti, come stai? Bene, e tu? Si tira avanti, si tira avanti Come vanno le tue Giornate Bene Sempre uguale Un po' che non ci sentiamo Shanti Veramente tanto Lo penso anche Non lo so, raccontami il giorno più bello di questo 2022 Passato Lo devo ancora vivere Quindi lo vivrai nel 2023 immagino Fa ridere Fa ridere Ci sta E... Non lo so che cosa è cambiato da... Cioè, dall'anno scorso Cioè, cosa si è evoluto nella tua vita Ah, beh, è cambiato tantissimo allora Passaggi, sì Eh? Sono passaggi Passaggi della vita Certo Certo, certo E... Qualcosa Ma... Sono magari un pochino più musicista Mmm... Sono... Più grande Ho... I cappelli più lunghi Cioè... Ho... Non ti sei più fatto più? No Non ancora Non ancora ma è una cosa che devo ancora... Che farai Che farai Che farò, che farò Sì 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 Che farai Eh... Ho un gatto Ma... Cioè nel senso... Quello c'era C'era anche prima C'era anche prima C'era anche prima Non è passato così tanto Un anno Vale È stato tanto in realtà È stato tanto tempo E... E niente Cioè la mia vita prosegue... Prosegue così Cioè Si tira... Si tira avanti C'ho con te Bene, bene Tu ce l'hai con me Shanti? Per capire Tu ce l'hai con me? No Eh... Allora... Io dovrei... No, non lo so Perché ho sempre percepito del... Poi mi hanno mandato anche delle tue storie frecciatine Robe strane Mi sembra... Mi è sempre sembrato che... Ci fosse dell'astio da parte tua Verso di me Magari mi sbaglio Eh? Ti sbaglio Ciao Ok Non c'è... Cioè non ci sono sbatti No Bene Bene Sì... Stai facendo un glow up Shanti Sì? Sì, sei molto carina Grazie Prego Prego Io sono peggiorato Sono uguale Sono uguale Vabbè lo prendo come un... Un... Cioè Un'affermazione Brava Esatto Bene Bene E come è stata tua madre? Bene 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 Oh Ciao Ecco la lag Ciao Simone Sfigato scopo ogni giorno E... Ma... Senti un attimo Eh... Come va nel quel che è di Roma? Sempre bene Io comunque non so sempre a Roma Cosa cazzo? Ho detto che io non so a Roma però... No beh... La... La dispoli? Bravo A memoria... Cioè Mi sono fatto le canne nella vita ma... Mi è rimasto quel... Quel neurone che... Cioè È... È rimasto... Oh 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 Si è? Si è? Si era bloccato tutto Ah... Eh vabbè i problemi dell'internet... Oggigiorno sono devastanti Ma... Cioè... Come va con Tony? Ehm... Ormai ci siete attaccato con te... Ehm... Dura dura Ehm... Basta dire... Puttate... Ehm... Scusami eh... Desorazioni veramente fastidiose Fastidiose è la parola giusta Ma... Grazie per i bit cazzo Basta Va... Ok Ehm... Come hai fatto un anno fa dai cazzo uo Ehm... Ehm... No no... Ehm... Cioè... Nel senso... Dai... Ehm... No... Volevo chiederti... Ehm... Cioè... Non so se sei... Sei nel... Nel periodo... Mestruale... Non so come si chiama... Mh... Ci sei? Sei in? Che vuol dire? Cioè... Sei in in... Lo stai vivendo? Ma che cosa? Il periodo... Il ciclo... Ve le festi? No... Il ciclo... Ah... Perchè me lo chiedi? Non lo so... È la prima domanda che mi ti è venuta in mente... Ehm... Per capire poi... Il tuo mood di adesso... Cioè se fossi... Ehm... L'ho passato da poco... Ok... Ok... Quindi... Cioè... Non sei incazzata ora col mondo? Beh... Un po' senza... Ho capito... Ho capito... Ehm... Ho visto che su Instagram ormai sei attiva nelle tue attività di marketing... Ehm... Che io tanto condivido... Ehm... Oh... Ciao ragazzi nelle live... Non mettiti dritto nelle live di Instagram che sembri un coglione... No... Ehm... Perché devo guardare la chatta anche... Ma... Ehm... Shanti... Ehm... Ehm... Hai... Dei capelli nuovi? Sì? Ti piacciono? Grazie per i beat... Cazzo... Non c'è un capelli nuovo... Eh? Non c'è un capelli nuovo... No... Eh... Scusami... Eh? No... 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 Scusami davvero... Scusami davvero... Ehm... Ti scusami... Grazie per i beat... Cazzo... Ehm... Ci sono problemi tecnici... Di audio... E spero un... Ho ragionamento locale... Forse... Non lo so... Spero... Ma... Senti un attimo... Shanti... Ehm... Cioè... Ti manca entrare nelle mie live? Grazie per i beat... Cazzo... Ehm... Prossimo canale Telegram... Ehm... Era divertente... Era divertente? Che è dei miei... Cioè... Degli ospiti che di solito invitavo... Cioè... Invito... Quello che ti manca un po' di più? Jody... Rubino... Non so... Ehm... Jody... Probabilmente... Lo senti ogni tanto... Daniele e Jody? L'ho sentito... Tempo fa... L'ultima volta... Al telefono... Come mai? Oh sì... Oh... Chiaro... Ehm... Ti piace quello che stai studiando? Sì... Abbastanza... Da 1 a... Tony? 6... Probabilmente... Ok... Che numero tocca Tony? Ehm... Molto... Molto alto... 600? Mh... Perché sì... Ok... Quindi 6 su 600... Mamma mia... Sto facendo tardi... Ehm... Cioè... 6 su 600... Ehm... 1 su... Cioè... 600 diviso 6... Quindi 100... 1 su 100... Ciao! Non lo so... Io e la matematica... Siamo delle cose... Tutte distanti... Ho capito... Ho capito... Ma... Vabbè... Ehm... Oh... Sono le ospiti delle live... Non rompete il cazzo... Cristo Dio... Ma vi svegliate... Figa... Troia... Mamma mia... Scusami... Shanti... Veramente... Perché mi arrivano i messaggi su Instagram... Delle... Delle due ospiti che devo fare entrare... Adesso... E quindi mi stanno scrivendo... Entro... Due messaggi... E tutti spammano il nome... Come dei deficienti... E quindi... Soliti problemi da streamers... Ma... Tu perché non fai le live su Twitch... Granati? Mi interessa particolarmente... Ma ti vedo sempre in live su TikTok... A polluzziare... Le live su TikTok... La sera... Prima di sera... Adesso... Sempre... Ma è sempre... Ma è molto spesso... Cioè fai streami più di me... No... Sì... Sì... Allora... Ah... È stato facile... Bene... Perfetto... Perfetto... E... Va bene... Shanti... È stato veramente... Un piacere... Riparlare con te... Spero che... Non ci siano... Grazie per i beat cazzo... Problemi di... Di... Hai visto che grow up che ha fatto? Sì... Tanto lo sappiamo tutti che la riempirai di dentifricio... Nei capelli sborrei... Basta... Scusami... E... Va bene... Shanti... No... È stato un piacere aver... Avuto questa conversazione con te... Basta... Basta... Veramente... Dio ficale è un dito nella fila... Basta... Grazie... Abbassato un attimo... Ciao... Scusami eh... Va bene... Shanti... È stato... Veramente un piacere di vederti... Spero che non ci siano... Un... Problemi... Cioè... Problemi... Tra noi... Nel senso... A livello umano... E... Ci vediamo... Presto... Veramente... Veramente grazie... Per avermi... Cioè... Voluto nella tua... Trasmissione... Che è anche un po' la tua realtà... Possiamo dire... No? Ok... Hai capito cazzo? Pronto? Eh... Va bene... Ti ho detto anche per me... Eh... Ok... Tutto a posto... Tutto bene... 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 Va bene... Buttami fuori pure tu... Non è un problema... Tanto sono... Non so come... Che tu non puoi farlo... Sì... Però preferisco che sia tu a buttarmi fuori... Più... Ok... Lo fai... Lo fai proprio... Ciao... Ciao... Che disagio... Corco Giuda... Una paschera di pelle sopra il fisio che mi culla... Una vetrina sulle stelle con la musica da ballare... Una paschera di pelle sopra il fisio che mi culla... Una vetrina sulle stelle con la musica da ballare... Da ballare... Da ballare... Ma paura della famiglia...